il procuratore dovevo chiamare sono De Falco da Livorno, comandante si è comandante, si guarda si, buonasera comandante io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? si, buonasera comandante di Falco mi dica il suo nome per favore il comandante Schettino ci sono persone intrappolate a bordo adesso lei va con la sua sciolup sotto la prua della nave, lato dritto c'è una biscagina lei sale su quella biscagina e va a bordo della nave va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono è chiaro? io sto registrando questa comunicazione comandante Schettino allora, comandante le dico una cosa parli a voce alta allora la nave adesso io sono quasi comandante, parli a voce più alta metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta chiaro? con la sceluppa fallo venire in la sceluppa fallo venire in la sceluppa fallo venire qua fallo venire qua cosa? allora in questo momento la nave è inclinata ho capito c'è gente ascolti c'è gente che sta scendendo dalla biscagina di brua lei quella biscagina la percorre in senso inverso sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo chiaro? gli dice se ci sono bambini donne o persone bisognose di assistenza e mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie è chiaro? se è comunicato con la nave avvicinare le motivazioni guardi schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto veramente molto male le faccio passare l'anima di guai vado a bordo cazzo comandante per cortesia no per cortesia lei adesso prende e va a bordo mi assicuri che sta andando a bordo io sto andando qua con la lancia dei soccorsi sono sotto qua non sono andato da nessuna parte sono qua che sta facendo comandante? sto qua per coordinare i soccorsi che sta coordinando lì? vado a bordo mi coordini i soccorsi da bordo lei si rifiuta? no no non mi sto rifiutando lei si sta rifiutando di andare a bordo comandante? e mi dica qual è il motivo per cui non ci va ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata lei vada a bordo è un ordine lei non deve fare altre valutazioni lei ha dichiarato l'abbandononave adesso comando io lei vada a bordo è chiaro? comandante non mi sente? sto andando a bordo vada mi chiami immediatamente da bordo c'è il mio aerosoccorritore lì dove sta il tuo soccorritore? il mio soccorritore sta a prua avanti ci sono già dei cadaveri Schettino avanti quanti cadaveri ci sono? non lo so uno lo so uno l'ho sentito me lo devi dire lei quanti ce ne sono? Cristo ma ti rende conto che è buio che qua non vediamo noi? e che vuole tornare a casa Schettino? è buio e vuole tornare a casa? salga sulla prua della nave tramite la biscagina e mi dica cosa si può fare? quante persone ci sono? e che bisogno hanno? ora sono i comandanti in seconda come? siamo i comandanti in seconda qui salite tutte e due allora tutte e due come si chiama il secondo? si chiama il secondo? come si chiama il secondo? Dimitri Dimitri cosa? Dimitri Cristiti lei è il suo secondo salite a bordo ora è chiaro? come dai? io voglio salire a bordo semplicemente che l'altra scelta qua ci sono gli atti soccorridori si è fermata si è fermata e si è tallaterina adesso ho chiamato atti soccorridori lei è un'ora che mi sta dicendo questo adesso va a bordo va a bordo e mi viene a dire e mi viene subito a dire quante persone ci sono va bene comandante si chiama subito ok roggio ravviso 104 e ora siamo 104 dunque 5 5 6 6 6 9